Una piattaforma paneuropea che sotto lo standardo di Sky possa servire clienti e negoziare diritti televisivi in tutta Europa, la britannica B-SkyB conferma le indiscrezioni e in trattativa per acquistare le quote che la Fox detiene in Sky Deutschland la maggioranza e in Sky Italia il 100%. Una manovra tutta interna all'impero di Rupert Marduk che potrebbe dare origine ad un vero e proprio gigante della pay tv, anche se B-SkyB sottolinea che l'esito della transazione non è scontato. Valore complessivo dell'accordo 10 miliardi di euro secondo i media ma tutto dipenderà dal valore da attribuire alle azioni delle due controllate.